a sono un po' avventato e stasera mi chiesto di poter sessitare qui su questo link che dirigerà avrà periodo a vincolare la prima cosa come potrete va bene certo di dietro da un grosso di ottuno che l'ho visto l'ottante da me è la paletta che non si può lui è è il mondo 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 e... 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 ... 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.